Arrivano ad Arezzo le fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti. Ad annunciarlo è stato lo stesso assessore Marco Sacchietti, risposta a delle interrogazioni dei consiglieri comunali Meristella Cornacchini e Donato Caporali. Lo strumento della fototrappola ci convince, siamo propensi a dotarcene, ha dichiarato l'assessore. Certo vanno gestite, necessitano di un supporto e di un lavoro importante di registrazione e verbalizzazione, non è tanto acquistarle che di per sé semplice. Il servizio sarà gestito da una partecipata comunale. Gli ispettori ambientali passeranno a 5 e 4 saranno attivi sul territorio e uno da luogo fisso. Stiamo attivando, conclude Sacchietti, un sistema di centralizzazione delle segnalazioni che oggi avvengono attraverso i canali più disparati. Pensiamo ad un'app specifica. Ed intanto, sempre in tema dei rifiuti, il sindaco di Arezzo e presidente dell'autorità d'ambito territoriale Alessandro Ghinelli è tornato a parlare del futuro di Auto Toscana Sud dopo le note vicende giudiziarie e la nomina del nuovo direttore generale di Auto Toscana Sud, Paolo Di Prima. Siamo a un punto morto inferiore. Aspettiamo la nomina del nuovo direttore generale per ripartire veramente con un nuovo slancio anche nei rapporti con Sei Toscana, che in questo momento non sono dei migliori e rispetto ai quali voi sapete che io sempre posto sia da presidente ma anche da sindaco dei problemi di efficienza del servizio. E quindi si tratterà di porsi un tema molto molto importante ma, ripeto, lo farò solo nel momento in cui ci sarà la presa di servizio del dottor Di Prima che avverrà il 2 di ottobre. Poniamoci un tema serio, se non è veramente il caso di porre il tema dell'annullamento del contratto. Ecco, altro tema che ha portato lei sul tavolo comunque dei sindaci è quello del no a un atto unico. A che punto siamo in questo senso? Ma io credo che da parte regionale ci sia stato un po' un rallentamento delle procedure che avrebbero dovuto portare al lato unico regionale, anche perché molti sindaci, e non necessariamente di aria centrodestra, molti sindaci del Partito Democratico non sono d'accordo con questo lato unico regionale e quindi c'è una levata di scudini con fronte di questa volontà del governatore. Credo che ne abbia preso atto e abbia perlomeno rallentato le cose. Non so se ci ha rinunciato o no, non ci ho parlato dell'argomento. Però diciamo che non ha più dato quell'impulso che c'era due mesi fa.